Il possesso di informazioni e di dati sono delle merci preziosissime significa essere in possesso di un grande potere Spesso e volentieri l'hacker è entrato attraverso di noi perché il fattore umano, ahimè, rappresenta proprio l'anello debole della catena sicurezza Buona parte delle iniziative che sono fatte per la sicurezza sono totalmente contrarie alla cyber sicurezza O noi ricentriamo il problema di che cos'è la cyber sicurezza oppure rischiamo di fare un po' un pasticcio L'importanza della sicurezza è quella di garantire l'integrità del dato e l'integrità anche della rete Perché è vulnerabile la rete? Perché tutti vogliono accedere ai dati Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti